Quando Stefano mi ha dato la notizia ho pensato a Martina subito, ho detto sicuramente anche lei si era contenta perché finalmente è venuta fuori la verità, quella che voleva anche lei e io ho pensato subito. Ha durato fatica a dormire Luca Vanneschi dopo la sentenza che lo ha assolto insieme all'amico Alessandro Albertoni perché il fatto non sussiste. Martina Rossi non perse la vita sfuggendo ad un tentativo di violenza cadendo quella mattina di agosto di nove anni fa a Palma di Mallorca. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Appello di Firenze. Il giovane Aretino di Castiglionfibocchi ha detto di aver pensato molto a Martina e agli ultimi nove anni di inferno. Io sono innocente, io sono sempre stato innocente e io non sento niente e sono stati nove anni di cui l'ho sentito di tutti i colori. La gente che mi ha minacciato, andavo nei locali e mi guardavano male. Vanneschi sinceramente anche qualche conoscente che mi aveva conosciuto ha iniziato a non mi parlare più. Insomma a me questi nove anni mi hanno rovinato. Io ci ho rimesso un'azienda, ci ho rimesso un'impresa, sei mesi non ho mai lavorato. Vanneschi ha commentato per la prima volta la vicenda e lo ha fatto a fianco del suo avvocato Stefano Buricchi. Quindi anche il discorso della prescrizione, della morte inconsistenza d'altro eredito era un falso problema perché siamo stati assolti da entrambi i capi di imputazione perché il fatto non sussiste. Non finirà qui, ha detto invece Bruno, padre di Martina. Gli avvocati ci hanno spiegato che da soli non possiamo fare ricorso in Cassazione, serve che lo presenti la procura generale. Ho parlato con il PM in aula, spero che non voglia fermarsi qui, a questo verdetto che nega la giustizia.